inizia un nuovo mese finisce una settimana venerdì primo febbraio 2019 oggi in 14 minuti dovremo fare 4 time 30 burpees bar facing 20 clean and jerk con 60 oppure 40 kg 30 burpees bar facing per quanto riguarda beginners intermediate carichi e scalature come al solito sulla grafica era l'ultimo vol della settimana ci rivediamo lunedì per un'altra settimana insieme su c per tv buon weekend